Fondi per il sociale sono a rischio, quelli per il dopo di noi. La denuncia arriva dal Partito Democratico che attraverso le parole del segretario Stefano Albano e della responsabile delle politiche sociali del PD Emanuela Di Giovambattista ha voluto riportare l'attenzione e denunciare questo tema. Si parla di più di 90.000 euro destinati al Comune dell'Aquila. Secondo i due, la risposta dell'assessore Bignotti-Laula è stata assolutamente insoddisfacente. Albano l'ha definita addirittura surreale. La deadline era fissata per il 30 giugno dopo una comunicazione della Regione Abruzzo che portava la data del 16 aprile, con proroga ora al 31 luglio, ha detto l'assessore Bignotti. Pochi giorni hanno incalzato gli esponenti del Partito Democratico per fare l'avviso pubblico, per inoltrare le domande all'unità di valutazione multidimensionale e per rispedirle poi alla Regione per avere fondi. Il rischio è molto alto, secondo Stefano Albano. In Consiglio abbiamo fatto un'interrogazione proprio per questo, perché sappiamo che non è stato fatto nulla alla risposta dell'assessore, surreale. Se non ci fosse stata questa proroga, infatti, i fondi sarebbero stati già di persi. Per quanto riguarda invece i centri diurni, la mozione targata Partito Democratico è stata bocciata. Ci sono 200 mila euro. Se non erogati, si metteranno seriamente a rischio i servizi. L'assessore di Giovan Battista ha parlato anche del progetto di Via Antinori, un progetto non della vecchia amministrazione a specificato, ma delle associazioni dei disabili. Qui c'è un milione e duecentomila euro a disposizione della protezione civile. La risposta dell'assessore è stata che non è di sua competenza, ma delle opere pubbliche. Questo, per me, ha detto la di Giovan Battista, denota disinteresse. La di Giovan Battista ha anche evidenziato lacune strafalcioni, ha detto, nel budget di salute del nuovo protocollo sottoscritto con la ASL. Sarebbe bastato farne un operativo, ha detto, e non un ex novo.